Dunque, senza farlo apposta devo aver comprato quello che mi serve, quindi si va qui insomma. Non mi ricordo se in quel terminale o in questo, quindi torno alla cittadella, sì buonanotte, torno sulla Normandy e andiamo in sala macchine. Grazie comandante, quella condotta termica GX-12 è arrivata, stiamo eseguendo le modifiche. Quando è che mi sono offerto per infilarmi nei condotti? Sei tu l'ingegnere ha detto l'energia, non io. Fa un caldo qui. Ehi, Adams, non ha detto che tutta la Normandy è Ida. Kenneth, non aggiungere altro. Non dirlo a Joker, o si ingerosisce. Oddio. Ma a parte che dov'è finito? Non so, magari si vede in qualche modo. Sbaglio tutta la Normandy è Ida. Che imbecille. Forse qua sotto. No, eh. Proprio no. Fino avevo tutto registrato, potevo mettere in pausa. Stiamo ancora lavorando sulle modifiche termiche. Non dovrebbe mancare molto. Ok, tornerò fra qualche missione. Ok. Ok.